non vedo l'ora di iniziare un attimino a lavorare con il gruppo con lo staff abbiamo poco tempo ma riusciremo a fare quello che dobbiamo fare ho avuto modo in questi due mesi di inattività di consultare parecchio di cercare di formarmi un attimino sull'aspetto tattico tecnico secondo me cambia poco cambia molto poco le ragazze sono ragazze professioniste sono comunque pronte a lavorare in qualsiasi modo io ho avuto modo pure di seguirle hanno lavorato molto molto bene in questi mesi io comunque tanta esperienza sono sono quasi vent'anni che alleno e penso che poi cambi cambi poco il pallone è sempre uno solo sono le stesse regole per me sarà un'esperienza prima di tutto formativa perché ovviamente entro in un mondo nuovo e allo stesso tempo sono molto entusiasta perché vorrei voglio capire anche fino a che punto le mie competenze possono essere complementari a questo nuovo cammino che vado ad intraprendere la sosta ci servirà per conoscerci meglio questo è un periodo importante di conoscenza partita importante tutte le partite sono importanti non bisogna dimenticare che siamo solo alla quarta giornata di campionato ogni partita a questi livelli è molto molto complicata le ragazze sono pronte come ho detto prima hanno lavorato benissimo in questi due mesi io continuerò a farlo cercheremo di fare qualcosa di diverso ma non inventandoci niente sappiamo che la sandoria è una squadra forte sappiamo che il tecnico della sandoria e il suo staff sono persone molto preparate però lo siamo anche noi non dobbiamo dobbiamo avere rispetto di tutti ma non dobbiamo avere paura di nessuno poi in queste partite le ragazze già già l'hanno fatto capire hanno fatto delle ottime prove e dobbiamo continuare a fare quello che stavamo facendo magari cercando di raccogliere qualche punto in più un po' di 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 più